Non ti farà male mangiare a quest'ora? Non è mangiare, è coccolarsi. Ma sì, lo sai che ti dico. Hai ragione tu. Ma se non ci coccoliamo da sole, chi ci pensa a noi? Dunque, riassumendo, l'autore... È inutile. Che? Non sarò mai all'altezza di Nicoletta. Allegra? Nicoletta, non è migliore di te. Lo vuoi capire? Smetti di parlare di te. Oddio. Oddio, scusami. Perdonami. Mi dispiace tanto. Non ti preoccupare. Presto sono stanca, vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Rabbi. 3 E' Prenata. Grazie a tutti